Avrà il sapore della rivalsa la targa Florio di Rudy Michelini, reduce dalla sfortunata uscita di strada accusata al rally di Sanremo, dettaglio non da poco e che ha compromesso il proseguimento della gara, il pilota lucchese cercherà di riscattarsi sui chilometri della corsa più antica al mondo, in programma venerdì e sabato sull'asfalto della provincia di Palermo. Sensazioni, quelle legate al terzo appuntamento del campionato italiano assoluto rally, legate all'edizione affrontata in precedenza dal portacolori della scuderia Movisport, atteso al volante della Volkswagen Polo a Rally 2, equipaggiata con pneumatici Pirelli e messa a disposizione dal team HK Racing. Un connubio, quello strutturato con il team di Como, attraverso il quale Rudy Michelini cercherà di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel contesto dedicato al campionato italiano rally promozione, serie che lo ha visto elevarsi in top 5 nell'appuntamento di apertura rally del Ciocco e che alla vigilia della targa Florio lo vede in quarta posizione. Sul sedile destro della vettura turbo compressa assistita in campo gara da HP Racing, siederà come sempre Michele Perna, parte integrante di un impegno articolato su 12 prove speciali, teatro di 125 chilometri, di agonismo anticipati da Shakedown e partenza in programma venerdì da Termini Merese. Tre le prove speciali che caratterizzeranno il day 1 con la Nino Vaccarella di inaugurare il confronto e due passaggi su Cefalù, 31 chilometri ai quali il giorno successivo se ne aggiungeranno ulteriori 90 con arrivo ambientato sul belvedere Principe di Belmonte, cornice che vedrà ancora riflettori puntati su Termini Merese.